Ricorreva l'anno 2020, siamo a fine gennaio, quando in Italia si scoprì per la prima volta l'uso della mascherina. Con il caso dei due turisti cinesi soccorsi in un albergo a Roma, il coronavirus è apparso per la prima volta anche nel nostro paese. Da allora non ci siamo proprio più separati da queste mascherine, prima introvabili e adesso indispensabili, e soprattutto non ci siamo più separati dal fatidico lockdown. La Sicilia dalla prossima settimana dovrebbe tornare intanto zona arancione. Ad alimentare questa speranza sarebbero soprattutto i numeri che appaiono più confortanti. In provincia di Ragusa si conferma il dato che ormai risulta essere costante da alcuni giorni, pochi decessi, calo di positivi e di ricoverati. Nelle giornate tra lunedì e martedì mattina, di fatti, non si è registrato nessun decesso di persone positive al covid in provincia. Rimane così di 189 il numero delle persone residenti nel ragusano e risultate positive al coronavirus. Ottime notizie arrivano dalla città più colpita dalla seconda ondata di pandemia, Vittoria, che grazie all'assenza di malati dal coronavirus chiude il reparto covid dal guzzardi. I pazienti nuovi andranno nel nuovo ospedale di Ragusa. Così come è accaduto per il maggiore di Modica, infatti l'ASP, una volta acclarato il calo delle richieste di ricoveri, razionalizza le risorse concentrando tutto sul nosocomio. Tenere il reparto covid aperto con pochi ricoverati comporta infatti un notevole impiego di personale e di risorse. Quindi, considerata la situazione nettamente migliorata, l'azienda preferisce concentrare tutta l'area covid su un solo ospedale. Per quanto riguarda i test rapidi di questi ultimi giorni, ne sono stati realizzati 1.769 con tre positivi, due a Gerratana e uno a Pozzallo. A Pozzallo, da settimane, la situazione si mantiene costante con un numero che non desta preoccupazione. Ragusa, dunque, sembra molto distante dai dati allarmati dalle settimane scorse che potevano far pensare alla tanta temuta terza ondata. Grazie a tutti.